Pronto, sei già pronto per partire? Siamo qua, tutti in attesa? In attesa, ma tu parti da Malpensa o da Linate? In Linate, eh sì perché rientro, cioè a Roma e Linate ce n'è uno ogni morto, a Malpensa ce n'è uno ogni morto di vesco. Ma che noto di one in? Eh, cosa dice? Eh, io ero sentito lì a una festa, a una festa di Gnago, cazzo era, c'erano i cartellini lì, ho detto che sono rimasti male anche loro che si aspettavano almeno un saluto, invece un cazzo. Ma secondo me questi qui sono proprio talmente fusi che non hanno niente, cioè ma adesso obiettivamente io facevo una considerazione, dicevo, ma uno che non si accorge che c'ha un arbitro a fare in Arabia e lo disegna a fare la Coppa Italia e poi oltretutto lo ridisignano a fare il Siena, che se dovrebbe capitare a me, io ti dico, io li aspetterei anche al Vargo, perché ammetti che io sono il Siena. Mi capita che Calcagno mi fa una cappella, ma anche Rosetti, ha fatto 5 partiti di feria di fila, ma è il caso di mandarlo? 5 partiti di feria di fila. Ci allacciamo al discorso, ci allacciamo al discorso che io ho detto ieri a Facchetti, che se non tolgono questo meccanismo perverso dei gettoni di presenza, qui nulla mi toglie, che Rosetti va a piangere da pairetto e mi fa un po' di partite, ho bisogno di qui e di là, e questi lo disegnano a colpi di 5 mila Euro alla volta. Eh, io non capisco, ma invece tu devi avere, Castellano è uguale, Castellano è fra il quarto, e anche lui si l'ha disegnato per stasera lui addirittura, a Trieste. E come fa lui? Che ne so io quando sono tornati, se saranno tornati oggi, non lo so, non ho capito quel programma di viaggi del cazzo, ti dico la sincera verità. Perché, ma anche se, infatti io stamattina sono andato in ufficio, ho fatto la disegnazione, tutte le mie cosette, e non vedo Castellano, ma cazzo Castellano l'ha mandato, ma mi è fuggito perché era andato a, ma cazzo, ma dai, ma come fa a Trieste? Cioè, è allucinante la cosa, cioè, da preoccuparsi, è la verità. Ma io ti dico, io sono il Siena o sono l'altra squadra, questo mi fa una cappella, io vado sui giornali di ammazzo, perché dico loro, devono mandarmi gente che è psicologicamente preparata, no? Gente che fa il volo, va in Arabia, arbitrare, torna indietro, è arrivata oggi per la partita domani, ma siamo pazzi, dai. Addirittura quello lì con la partita al sabato sera. Sì, ma adesso io dico poi, scusa, non hanno fatto partite, no? Rosetti, cazzo, dovrebbe essere in turno, dovrebbe essere fuori turno, o che cazzo le possa ancora eventualmente capire. Ma porca puttana, ne ha fatti cinque, cinque di fila ne ha fatti, su, dai. Sembra proprio l'arraffare andare a prendere i soldi, no? Lui ha preso 50 milioni, più quella trasferta qui che ha fatto l'inarabia, non so cosa ha preso, e via. Eh, boh, non ci vediamo, vedremo cosa succede. Ciao, grazie. Ciao, grazie. Ciao.